Oggi abbiamo voluto fare questo appello ai giovani, da giovani under 35 che sediamo in Consiglio Comunale, in tutte le parti politiche, io rappresento la Lega, poi abbiamo Tommaso Mazzanti che fa parte del gruppo 5 Stelle, Giovanni Clini e Francesca Ricci del PD e Edoardo Carboni di noi giovani. Siamo tutti uniti per dire ai giovani restate a casa, ne va della salute nostra ma anche di tutti coloro che ci stanno vicini, da partire dalla nostra famiglia, ai nostri amici. Questo è il momento della responsabilità, quindi sappiamo benissimo che per noi è difficile rimanere in casa perché i giovani di per sé piace uscire, stare insieme, abbracciarci. Ecco, queste pratiche le dobbiamo sospendere perché è bene stare a casa con la nostra famiglia e approfondire magari qualche tematica a noi cara per poi, quando sarà passata questo periodo, tornare a fare quello che facevamo prima. Però oggi è il momento della responsabilità, quindi l'appello che facciamo a tutti i nostri ragazzi, che purtroppo ancora vediamo in giro per la nostra città, soprattutto la sera, è quello di rimanere a casa e superare questo momento insieme perché siamo sicuri che quando finirà, speriamo molto presto, torneremo a fare quello che facciamo prima con ancora più convinzione. Quindi stiamo a casa e tuteliamo la nostra salute.